La palestra del merda è quel ciccione di Snorlax, oh Sbam, pezzi rari Sì, voglio curarli, merda Bordello, luogo che raggiungeranno le più alte vite del piacere, vuoi che li pigliamo per qualche secondo? Tende le linee, prego Ah, sì Guarda, Dredd, come ti sta a divertì Mamma mia Klaus pure Klaus, zitto zitto, bono bono Ok, adesso dobbiamo andare alla nave, giusto? Oh, Danerama Eh, no, devi parlare con quell'altro No, volevo fermarlo, che ne so, stavano in corso Eh, devi fermare il... Eh, 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 mamma mia, chi acchiappa d'altro, proprio Acchiapparella Vai, inverti, inverti No, non sono fuori Ah, grande, ok Mr. Brené, e aspetta che piano, cosa è una lettera da consegnare? Una letter Da consegnare, mi ricordo un po' stimo Ah, ti avevo detto che ti avrei accompagnato Vabbè, allora andiamo, sì Allora andiamo, Gabbiano, vento un po' Bam, bam Come ci sono entrati, pomodosi, piegano da dentro Terra di non dove Dai cazzo, sbrigati a consegnare la lettera a Tom Ravioli Ah, la prima cosa che devi fare Battere la palestra Più la di Tom Ravioli? Sì, devi battere la palestra Prendere il flash e entrare dentro Porca troia il palettiere Ma perché devi andare lì? Perché lì? Perché lì no Perché lì c'è la salvezza? Ma crepa sì Io l'odio sto Pokémon, mi sta po' sul cazzo Ma è figo, il primo è da toccarlo su No Per me questo qua lo sono tipo nelle trasmissioni televisive Quando devono pigiare il tasto, capito? Cioè lo spingono Che è mo qua? È mo, ogni allenatore che batti ti dà più luce Quindi capirai dove andare Questi sono tutti i Pokémon di lotta Tutti Ti andrò su Non è vero Ti andrò a destra Ok Posso Ti devi fare tutti questi Che parola Valtola vecchio Non farò sporcare mai il Davi Sei troppo forte Ah, poi questi De lotta che Che cambiano sempre i Pokémon Qua, che cazzo c'hanno Batto in me allora Vai Me sa che more Me sa Non so se... E il buddino Ma è riduta magro Spoo 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 Che coglione salirà anche di livello Incredibile Davvero? Pazzesco proprio Guardalo 25 pizze in faccia E abbiamo ristorato tutti i po' che... Sì, test Giusto Giustamente Sfotte Laura Ma questa ti toccherà a terra ogni tanto Oppure cammina così? No, cambierà a terra Scatti Vedo Gioco Spadroneggiano Incredibile Vai Vedi Si allarga il buco Mmm Vabbè Eh, pensavi ad andare a direttare al capo palestra Qui nessuno decide di pagare la bolletta da lui C'è, ci credo C'ha ragione però, eh C'ha ragione Ancora Qua volano tutti No, tre pochie Ma Palle Ma che è? Nachos Però mi torna da fame Che dici? Quanto passere è? Nars Ciao Gaff Ciao Sono Davy Sono brutto Sono brutto Ilota Nel cazzo Adoro rompere il cazzo Nel programmatore Tommy E sono inutile Vabbè Vabbè Fa tutto lui Ma cambia dei vestiti, oh Se sono ristretti Daffy Duck Oppure è uno di quelli che era la moda di risvoltini Sì, sì I risvoltini Mi sa che Daffy Duck muore Forse non in un colpo ma muore No Anche in un colpo Questo fa male Incredibile Che merda Ah che poi c'è Tra l'altro era pure inefficace Però vabbè Il coglione guadagna 200 E non ha solo un spawn Vi dobbiamo saprotare Extra buzz No, cioè Contro elettricità Sponnamo Eh sì No, infatti rispondo Nel contrario Però Cioè Manco c'era tempo Di attaccare Ma che cazzo Che hanno fatto? Ma è che è un elettore È da Rai Vedi? Capito? Ma perché c'ha tipo Caparezza in testa? Uh Porco cane Elettricità Bollaraggio Dovrebbe morì Oh parca troia No tranquillo Che la fai Che la fai Fulmine Eh, calla No, basta Rimaniamo così Sta tranquillo Guarda che c'ha in testa Porca puttana C'ha rotto il culo Ti mando a Klaus Che botta super efficace GGVP Klaus È il momento tuo Sì, ma questi artetici Ma quando io Lascia Sta tranquillo Buono punto Ci ha rotto il culo Per forza Cioè, Dread è inutile In questo momento Vai, Frax Confusione C'è solo questo Incredibile Intanto more Eh, sì Allora, Dread È il tuo momento Vabbè Dread Tanto mazza C'è Sì, no A meno che non è efficace No, sì È altro che non è efficace Che cazzo dico Super efficace Super efficace Vabbè, niente Cioè E mo, magicamente Abbiamo allenato tantissimo Dread, Frax e Klaus E sono arrivati tutti al 25 Ma che cazzo Ma c'ha barba Nelle ore Allora, voi adesso Notate la cazzo di precisione Che noi abbiamo Nell'allenato di Pokémon No? Mamma, cioè Tutti al 20 Tranne Tranne Coglione Che sta al 25 Sono fatti in culo Che potete capire Questa massura Frax, Dread e Klaus Tutti al 20 No Vabbè Per forza Questo si chiamerà Coccia pelata Non me ne frega un cazzo Perché? Perché è stivo Perché è coccia pelata O palla da rugby Decide No, coccia pelata è più carino No, non c'entra Coccia pelata Coccia Coccia d'ovo Coccia ovo Ma una coccia d'ovo C'entra, Lorenzo Coccia d'ovo Coccia d'ovo Tutto così, bro Olè Papò, la maccio capa d'onda Coccia d'ovo Abbiamo catturato Coccia d'ovo E che non lo alleni faccia dopo Allora ragazzi Siamo arrivati qui davanti Quindi Sì Siamo pronti Per affrontare la palestra Sì E quindi Nel prossimo episodio Vedrete la palestra